... Vince un contrasto Fernandes, poi si accentra al destro aperto Fernandes! Risponde Turriaga, segna il punto dell'1-1, riporta tutto in parità. Attenzione alla numero 6, Gambon destro, prova ad esplodere, la contiene Servillo, poi Fernandes si libera bene, va col mancino di Biase in due tempi. Da dato, per Fernandes se l'ha giusta di suola, poi tenta il filtrante. Fernandes il break della numero 6 che poi va di punta. Palla lasciata lì per Rovira, che sbaglia tutto, Fernandes 2 contro 1, Fernandes palla sul mancino, mette a lato. Muzzi insegue Fernandes che incrocia il pallone, che rimane lì di Biase con un miracolo.